Con la partenza della metropolitana del San Paolo abbattiamo quello che è stato un muro storico che ha spaccato la città e ha deciso che ce n'era un pezzo che era schizzata fuori in condizioni di disagio, di povertà a ridosso della zona industriale. Un quartiere a perdere, quel quartiere ha lottato, ha tirato fuori le unghie e i denti, si è dato un'anima e oggi si ricongiunge, è come se siamo intervenuti su una ferita, abbiamo ricucito uno strappo. Il governatore pugliese Nichi Vendola lo ha ribadito nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della nuova linea metropolitana che collega il San Paolo con il centro cittadino, entrata finalmente in funzione dopo un lungo contenzioso con l'impresa appaltatrice e dopo il finanziamento regionale di 15 milioni di euro che ha consentito il completamento dell'opera, come ha ricordato l'assessore regionale ai trasporti Mario Loizzo. Poco più di 9 chilometri, 15 minuti di percorrenza coperti inizialmente da 48 corse giornaliere, 24 per senso di marcia, 9 fermate dalla stazione ferroviaria di Bari Centrale all'ospedale San Paolo, una metropolitana con le sue stazioni aeree interrate capace di trasportare 1500 persone all'ora ma progettata per arrivare fino a 6000. Stavano maturando le due condizioni tipiche che hanno bloccato le opere infrastrutturali, niente soldi e contenzioso. Abbiamo immediatamente fatto un investimento di oltre 15 milioni di euro per consentire i prosegui del lavoro e abbiamo risolto il contenzioso collattodine che oggi ci consente di essere felici di poter inaugurare questo primo tassello di una grande strategia di sviluppo del trasporto pubblico che abbiamo messo in campo nella nostra regione. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro ai rapporti con le regioni Raffaele Fitto, il sindaco di Bari Michele Emiliano, il presidente della ferro tranviaria Enrico Pasquini, il dirigente del ministero dei trasporti Francesco Nolè e Fitto raccogliendo l'invito del sindaco Emiliano ad un maggior spirito collaborativo per risolvere i problemi di Bari ha anche detto che bisogna evitare di cadere nell'autocelebrazione. La giornata si è chiusa con una breve cerimonia di benedizione ufficiata dal vescovo di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci, il quale ha ringraziato tecnici e operai per il lavoro svolto.